Ciao, sono a casa, sono a casa da un mese e ci rimarrò altre due settimane e come tutti non ne posso più, non ne posso più di stare chiusa in casa però in queste quattro settimane ho rivisto molte cose ho imparato quanto sono importanti ad esempio le cassiere del supermercato quanto sono importanti le persone che vengono tutti i giorni a raccogliere la spazzatura e comunque fanno il loro lavoro e se non ci fossero le cassiere del supermercato io mi sentirei come se fossi in guerra e quanto sono importanti i farmacisti, i medici, gli infermieri, chi va a pulire negli ospedali e ho anche pensato che io nell'Italia che vorrei vorrei una sanità che non va in affanno vorrei che le terapie intensive fossero molte ma molte di più e vorrei che molti di più fossero medici e infermieri che possono darsi il cambio e vorrei che non avessimo bisogno di eroi invece abbiamo avuto ancora una volta bisogno di eroi e comunque quando usciremo dovremo continuare a tenere le mascherine mantenere una distanza perché questo lo dobbiamo a noi stessi e soprattutto agli altri e poi ci rivedremo, ci rivedremo al premio Flaiano a luglio in qualche modo e quindi a presto